Giorni lunghi a Pari, mentre il sole muore. Contro di giorni che è sempre nuovo, del primo fio del mar. E nel vento dell'estate, conteggiano le spighe, avremo ancora pane. Benedici, oh Signore, questa offerta che portiamo a te. Noi abbiamo festeggiato qui nella nostra chiesa il gruppo degli Alpini di Premolo, che ha una storia lunghissima. Il Presidente mi diceva che risale al 34, e in questa occasione ho benedetto con gioia il nuovo Gagliardetto. Il Gagliardetto di prima, mi diceva sempre Fausto il Presidente, che risale invece al 67. Quindi è una tradizione, questa qui a Premolo degli Alpini, veramente di lunga data. Io sono qui da pochi anni, ma per quel che li conosco non devo altro che ringraziarli, perché sono delle persone con una generosità innata proprio, e che senza fatica si mettono a disposizione di tutti quelli che in qualche modo hanno un bisogno. Non guardano né una cosa, né l'altra, né quell'altra, ma la loro generosità è veramente una grande cosa. Quindi li ringrazio per questo, e gli sono sempre vicino. Quindi a loro auguro tante belle cose. Poi sono contento che vengono sempre anche alla loro festa qui in chiesa, partecipano sempre tutti gli anni alla messa, e quindi anche per me è una consolazione, perché insomma anche il parroco vede che le persone del paese vengono anche alla messa e partecipano anche alle celebrazioni. Quindi anche per questo è una grande consolazione, un ringraziamento per me.